Innanzitutto buon Natale, visto che per qualcuno è fastidioso anche Gesù Bambino, e poi un bilancio assolutamente positivo per la Lega quest'anno. Siamo cresciuti come voti, come sedi, come credibilità, non ci accontentiamo. Nel 2016 sotto l'albero io conto di offrire agli italiani la cancellazione della legge Fornero, la cancellazione degli studi settore, un'immigrazione finalmente controllata e la possibilità di dire sì o no a questa Europa. Voteranno gli inglesi, nello stesso giorno la Lega da nord a sud in tutta Italia offrirà a 60 milioni di italiani la possibilità di dire sì o no a questa Europa, da cui arrivano i disastri delle banche, i disastri dell'agricoltura, i disastri della pesca. O l'Europa cambia, oppure meglio soli che male accompagnati.